4 minorenni sono rimasti feriti in una rissa scoppiata ieri sera in piazza Carlo III a Napoli. 4 trasportati all'ospedale Vecchio Pellegrini hanno riportato ferite inferte anche con armi da taglio. Si tratta di due quindicenni, entrambi ancora in ospedale in osservazione ma non in pericolo di vita. Un quattordicenne dimesso con proniosi di 15 giorni e un sedicenne dimesso con proniosi di 10 giorni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione Napoli Stella intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale, si tratterebbe di una rissa tra due gruppi di minorenni scoppiata per cause ancora in corso di accertamento. I carabinieri hanno avviato le indagini che si svolgono anche con attività di web patrolling e con l'acquisizione di eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona.